Castrocaro La musica sono la letteratura, amo gli animali, la natura, mi piace leggere ogni tanto e anche cucinare che è una delle mie passioni. Mentre tra le cose che non mi piacciono ci sono la falsità e la poca determinazione. Il mio sogno nel cassetto oltre la musica si può dire sia quello di voler recitare in un film oppure di studiare psicologia dopo il liceo. I brani che porterò alla semifinale sono il mio inedito che si intitola UT, scritto dal maestro Matteo Di Franco e come cover porterò un brano di Giorgia che si intitola Riguarda noi. Per quanto riguarda la finale è una mia ambizione, vorrei comunque esprimere tutta me stessa e arrivare alle persone che mi ascoltano. Ho tanto da imparare, questo sì, ma ho sicuramente tanto da dare e vorrei riuscirci tramite questa nuova esperienza.